Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi, tutti gli amici dello zoccolo duro, da Luca Lorde Nerazzurro qui per la partita di ieri, Inter-Cagliari. Che cosa dire? Non è che ci sia molto da dire onestamente, ieri è stata una delle poche partite dove per fortuna sulla carta era semplice ed è stata semplice anche in campo, complice da una parte anche il Cagliari che per ovvi motivi, a parte gli squalificati che aveva, comunque importanti, ho fatto anche un po' di turnover, non sono ipocrita e non ho mai commentato questo tipo di situazioni né a favore né contro, invece molti piace puntare il dito contro e gridare allo scandalo quando capita ad altre squadre e quando capita alla propria squadra a stare zitti. Io non l'ho mai commentato e non lo farò nemmeno adesso se non, appunto apro e chiudo parentesi, in una situazione del genere dove c'è un turno infrasettimanale in un momento della stagione del genere particolare per le medio-piccole o comunque per tutte quelle squadre coinvolte nella lotta a salvezza, se hai un turno infrasettimanale di questo tipo e magari domenica prossima hai una partita importante e hai solo 3-4 giorni per prepararla, è sempre successo e sempre succederà che prediligono la sfida, magari per la lotta diretta, per la lotta a salvezza, piuttosto che giocarti le tue carte a San Siro con l'Inter, come a Torino con la Juve, eccetera. Comunque detto questo, niente, il Cagliari veramente poca cosa ieri, noi bene, noi molto bene, abbiamo sbloccato subito la partita, però diciamo che il Cagliari credo che non abbia fatto un tiro in porta, ha superato a malapena la metà campo, quindi ieri è stata proprio una passeggiata, ecco ieri è proprio stata una passeggiata, con l'Inter non è mai una passeggiata, noi interisti siamo abituati a questo, però ieri effettivamente lo è stata. L'unica cosa appunto, primo tempo dovevamo essere almeno 2-3-0, invece avevamo 1-0, avevo un po' paura parlando infatti con Joe, gli dicevo, guarda, speriamo di segnare nei primi 10-15 minuti del secondo tempo il 2-0, perché sennò dobbiamo stare col culetto stretto stretto per tutto il resto della partita, conoscendoci. Invece, vabbè, sì, poi abbiamo segnato addirittura due gol all'inizio del secondo tempo, quindi benissimo Icardi e poi Brozovic, Brozovic che non faccio fatica assolutamente ad ammettere e a ricredermi, che comunque adesso sta facendo veramente la differenza. Oggi Brozovic è uno dei migliori in campo dell'Inter già da 3-4 partite, se non di più, da quando gli ha cambiato posizione, probabilmente non può più cazzeggiare in mezzo al campo nel ruolo di prima, ma in questo ruolo, come ho letto, giustamente essendo dovendo essere concentrato per tutta la partita, perché ha un ruolo comunque abbastanza delicato, alla fine lo ha responsabilizzato e di conseguenza Brozovic sta facendo veramente, credo, le più belle partite da quando è l'Inter, soprattutto per continuità, perché poi ne ha fatte anche di belle partite, la qualità non si era mai discussa, si discuteva l'atteggiamento del giocatore. Comunque, chapeau a Brozovic, Icardi mi è piaciuto molto, perché ha dialogato molto di più con la squadra, si vede che le parole di Spalletti un po' l'hanno stimolato, anche se non è proprio la partita di ieri un banco di prova chissà quanto attendibile, però per il futuro spero che continui, perché questo modo di giocare permette più insedimenti da parte dei centrocampisti, più azioni da gol, più soluzioni soprattutto e meno staticità nella manovra, dove appunto o c'è il Perisic o il Candreva delle situazioni, o chi per essi che vanno sulla fascia e crossano per Icardi, almeno abbiamo qualche altra soluzione. Quindi, detto questo, Icardi bene bene ieri. In generale è una prova, non sto a guardare ogni singolo giocatore, perché appunto ieri non è il tipo di partita che vai a analizzare, chissà quanto nel dettaglio tutto. Bene Cancelo, ancora bene Rafinha, assolutamente Cancelo, sempre uno dei migliori e Cancelo deve essere riscattato, proprio deve essere riscattato assolutamente. Se devo scegliere tra lui e Rafinha, scelgo lui, anche se anche Rafinha ha dato qualità al centrocampo, cosa che a noi ci serviva come il pane, e anche da quando lui si è ripreso un pochino comunque dall'infortunio ed è entrato in forma, lui, Brozovic messo in quella posizione e Cancelo comunque a pieno regime, assolutamente ci hanno fatto fare il salto di qualità e sono molto fiducioso per il futuro e per l'anno prossimo, che con due o tre innesti veramente possiamo dire la nostra. E poi basta ragazzi, non c'è niente altro da dire della partita, la partita è stata questa e bene così, adesso andiamo a giocare a Verona col Chievo, sempre un po' un campo ostico e poi c'è la Juve in casa, vediamo cosa succede. Poi volevo aggiungere una cosa rispetto al video anche che è stato fatto dal mio amico e collega Luca Magno, noto tifoso imparziale sportivo dello zoccolo duro, che a lui gli piace fare lo sportivo, gli piace essere imparziale, ma non lo è assolutamente, è assolutamente uno di quei tipo di tifosi che appunto come a lui oggi ha fatto il video dell'Intermer, per lui è un must, cioè quel tipo di tifosi senza volerne personalmente, la persona ovviamente si sta parlando come tifoseria, però come diceva lui era venuto fuori in chat questo discorso, visto che lui ha fatto del tipo di allusioni, un po' così velate, io non faccio questo tipo di allusioni rivelate, ma direttamente mi rivolgo a lui, direttamente come ad altri che la pensano come lui, che tifosi del genere, di questo tipo, anche interisti, non gioventini o milanisti, attenzione perché io personalmente sono in disaccordo con l'Intermerda in generale, ma per una questione proprio generale, non perché con un amico scherzando tu puoi dire Intermerda, la Juve Merda, siamo tra amici, lo facciamo anche per prenderti in giro, ci sta, quando diventa ripetitivo, ridondante, appunto come dicevo, quel tipo di tifosi che è un must, dicevo proprio questo ieri a loro, è un must, per alcuni tipi di tifosi è un must, cioè deve essere ribadito sempre e comunque, perché se no non sei abbastanza giuventino, non sei abbastanza milanista, o interista se lo dici nei confronti della Juve del Milan, perché senti il bisogno di esprimere la tua fede in questo modo, cioè per me è assurdo, per me è assurdo, ridicolo, addirittura ridicolo, cioè si è scomodato l'esempio di viva la figa, equiparandolo a eventualmente dire Intermerda, e questo dà da pensare, insomma, dà da pensare, perché è un po' quella classica immagine dell'uomo italiano medio che antepone comunque la sua squadra del cuore ha appunto il rapporto coniugale e poi mentre lui va allo stadio gli stanno scoppiando la moglie a casa, però va bene, questo è un modo di pensare molto italiano soprattutto e va bene così, insomma, io non farò nessuna crociata, nessuna guerra contro questo tipo di persone, perché tanto non, io lo dico, l'ho detto, l'ho detto anche a loro, non ci arrivano, non è una questione, io te lo spiego, tu lo capisci e capisci il mio punto di vista, no, per te deve essere così, perché per te esprimere in questo contesto la tua fede non è neanche tanto come al solito, non è tanto magari tifare la tua squadra, ma è quella di insultare l'altra squadra, no? E quindi secondo me, ripeto, io non so, non voglio fare il bigotto della situazione, perché io quando sono andato allo stadio a vedere Inter Milan, soprattutto Giova Omari in quell'occasione, però vabbè, non è che insultavo i giocatori milanisti, però ovviamente se cantavano, chi non salta non so, non lo esaltavo, se c'era un insulto, o comunque uno sfottò simpatico, ridevo e magari mi piaceva anche, non è che non lo dico, a dire la verità non lo dico, Juve merda, Milan merda, perché proprio non me ne frega niente, cioè la differenza è questa, che a me non me ne frega niente, io guardo la mia squadra, poi la squadra di altri la guardo, la commento, magari la critico anche, quello sì, ma a prescindere, proprio di default, dire Juve merda, Milan merda, a me non me ne frega proprio niente, e per chi invece lo deve dire, sente il bisogno di dirlo, è proprio, che vita di merda, ecco quello sì, è una merda, la vita, la vita che fai, perché se hai questo bisogno, questa necessità, che ti sale proprio, che ce l'hai dentro, è proprio brutto, perché vuol dire che sei frustrato, c'è una rabbia repressa, che dove la sfoghi? La sfoghi, in questo caso nel calcio, dicendo Inter merda, o, ma io parlo anche dell'interista, che può dire Juve merda, o Milan merda, in generale è sbagliato, perché è proprio la cultura del calcio, ho già fatto un video su questa cosa, è la cultura italiota del calcio, dove devi stare lì a offendere l'avversario, e poi non ci sorprendiamo che ci sono situazioni come quella che è successa, mi ricordo se due o tre anni fa, dove i bambini, bambini di otto, dieci, dodici anni che erano allo stadio a vedere la Juventus, appunto gridavano merda al portiero ogni volta che rinviava dal fondo, perché? Perché quello che vedono da noi, da quelli più grandi, quindi dal genitore, dalla televisione, guardate dai social, oggi come oggi, guardate quello che ha detto Crozza nei confronti di Benazia, come ha risposto Benazia, quello che ha detto Buffon, cioè ormai non c'è più un contegno, non c'è più un limite alla cafonaggine in genere, e cosa ci aspettiamo poi dai ragazzini? Perché i ragazzini non guardano le trasmissioni inelenti al calcio, i ragazzini non seluano sui social i giocatori, certo che sì, e quindi se noi continuiamo invece di noi stessi in prima persona, non evitiamo questo tipo di comportamenti, come possiamo pretendere che poi il ragazzino, perché noi siamo molto, in questo senso, molto incoerenti, siamo molto, come è il termine? Siamo ipocriti, siamo ipocriti, perché se noi vediamo un ragazzino che dice, non lo so, un giocatore merda, tutti gli scandalizzi, perché dici, mamma mia, ma che educazione che gli danno i suoi genitori, peccato che poi tu sei il primo che, se dovesse essere allo stadio, in un altro contesto, sei il primo a gridare di tutto i giocatori, ecco la differenza dove per me è fondamentale. Poi per carità, caro Luca Magno e cari tutti voi tifosi che avete questa necessità di dire intermerda, potete continuare a dirlo, però secondo me a un certo punto, a un certo punto, detto una volta ogni tanto tra amici si sta, però a un certo punto diventa anche abbastanza imbarazzante, anzi diventa proprio ridicolo e fate anche abbastanza pena, questo è il mio pensiero. Ragazzi, per quanto riguarda il resto, vi auguro una buona settimana e ci vediamo un po' per il commento di Chievo Inter, mi raccomando, iscrivetevi allo zoccolo duro, mettete il like alla pagina Facebook e niente, ci vediamo appunto settimana prossima e fatemi sapere anche la vostra. Dall'Ordine Azzurro è tutto, un abbraccio, ciao ciao!